Appassionati di serie TV World, nel video di oggi vi immergeremo in un vortice di emozioni e rivelazioni nella sop terra amara. Un segreto sepolto nel passato è finalmente venuto alla luce e le vite dei nostri amati personaggi sono sconvolte. Sevda fa una scoperta sconcertante. Umit, l'amante di Demir, si rivela niente meno che la figlia di Sevda. Le fotografie compromettenti che sono venute alla luce tra Demir e Umit, inviate da Umit a Zuleila per farle scoprire il tradimento di suo marito, fortunatamente finiscono nelle mani di Sevda. Casualmente lei apre la busta e quello che vede la farà gelare e da quel punto decide di risolvere lei la situazione, prende la busta delle foto e si reca in ospedale pronta a confrontarsi con Umit e a chiederle di stare lontana da Demir e dalla sua famiglia soprattutto. Tuttavia la sorpresa è totale quando Umit la lascia letteralmente di stucco cambiando tutto in quel momento. Ma scopriamo che cosa le ha detto Umit. Cosa pensate che farà ora Sevda di fronte a questa assurda verità che sta per scoprire? Accetterà Umit nella sua vita o no? Scrivetemelo sotto nei commenti per confrontarci. Viviamo un momento toccante e travolgente in cui Sevda si arma di coraggio per affrontare appunto Umit implorandola di non intromettersi nella relazione tra Demir e Zuleila. Ora minacciata dalle prove compromettenti di una liaison segreta. La furia di Sevda si scontra con l'inaspettato quanto mai si ritrova di fronte una donna fortemente offesa ed arrabbiata con lei che mostrandole una foto le mostra una bimba neonata sorretta tra le braccia di una mamma che la guardava teneramente coccolandola. Poi improvvisamente gli occhi di Sevda riconoscono che quella donna nella foto è lei ed è a quel punto, solo a quel punto, che Sevda le grida in faccia che quella bambina tra le braccia di quella mamma è lei e lei è una neonata sorretta omorevolmente da sua madre. A quel punto Sevda si gela, riconosce se stessa come la mamma nella foto ed a quel punto capisce che la bambina nella foto è Umit, quindi Umit è sua figlia. Il cuore di Sevda si spezza in mille pezzi quando capisce di essere la madre di Umit, la dottoressa che ha seminato discordia nel cuore di Demir e di Zuleyla. In un turbinio emotivo Umit, carica di risentimento, scatena una tempesta di accuse devastanti. Sevda, colpita dalle rivelazioni, si rende conto di perdere addirittura il fiato, afferrandosi a una sedia per sostenersi. La verità le sta pesando nel cuore, mentre le dure parole di Umit fanno eco nella stanza e la colpiscono come pugnalate. In quel preciso istante il mondo di Sevda crolla. L'emozione e il dolore le annebbiano la mente e improvvisamente, senza preavviso, cede, crolla, va in terra. La realtà dolorosa ha un impatto fisico su di lei. È solo a quel punto che Umit, colpita dalla sofferenza di Sevda, si rende conto della gravità della situazione. Sevda sta avendo un infarto. Una richiesta d'aiuto, disperata, sfugge dalle sue labbra, mentre chiama i soccorsi per la donna che ora è al limite della coscienza e ha un filo dalla morte. La corsa contro il tempo inizia e, mentre tutti si affrettano a soccorrere Sevda, Mujigan, nel frastuono generale, scorge una foto caduta su una sedia. Ed è la foto compromettente. Ma prima che Zuleyla, arrivata in ospedale e per altre ragioni possa vederla, Mujigan la ferra e la fa sparire immediatamente nella sua tasca, occultando momentaneamente le prove incriminanti. La voce di Sevda in quel momento è sospesa tra il passato doloroso e un futuro incerto. Qualche flebile parola, mentre la drammaticità dell'evento si dipana nell'atmosfera carica di pathos e rivelazioni sconvolgenti. Sevda è ancora sotto il peso della notizia, ma Umit sembra decisa a nascondere a Demir la vera ragione dell'infarto che ha avuto Sevda, perché non vuole rivelargli la verità. Mentre Sevda è ancora convalescente, passato qualche giorno, decide però di mantenere il segreto, il vero motivo dell'infarto, di fronte a questa brutale rivelarsi del passato. La sua relazione con Umit ora è in bilico. Iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un dettaglio di questa vincente storia. La storia si complica ulteriormente quando Sevda, nonostante le ferite del passato, cerca un po' di avvicinarsi a sua figlia. Tuttavia Sevda, ancorata ai traumi infantili, rifiuta assolutamente di ascoltarla, sostenendo che la sua vera famiglia è stata strappata via da lei e dal padre. Nonostante le spiegazioni di Sevda, Umit proibisce a Sevda di parlare male di sua zia e di sua nonna, le uniche persone che nonostante tutto l'hanno cresciuta, mentre lei, una madre indegna, l'ha abbandonata per seguire l'amore di un uomo che poi non l'ha mai sposata. Siete affascinati dalle sorprese e gli intrecci di Terra Mara? Allora iscrivetevi al nostro canale Serie T World per essere sempre aggiornati sulle ultime anticipazioni. Continuate così a scoprire il resto del video che vi riserverà sorprese fino in fondo. Sevda cerca di difendersi, spiegando a Umit che non avrebbe mai voluto abbandonarla. La verità sulla separazione emerge. La nonna di Sevda non approvava la sua carriera da cantante, quindi fu allontanata poco dopo la nascita. Sevda, pur tra le lacrime e risentimento, non è disposta a perdonare facilmente sua madre. La situazione si complica quando Umit, complice di Fikaret, continua a tramare per influenzare negativamente la felicità di Demir e Zuleyla. Mentre la villa Yaman è in festa per il compleanno di Adan, può essere stato cacciato dalla tenuta degli Yaman, Gaffur si ritroverà a fare dei lavoretti occasionali, oltre che a vagare per la città, chiedendo cibo ed un letto a chiunque. Giunto nella stalla degli Yaman, senza farsi vedere da nessuno, di nascosto, Gaffur si addormenterà in preda ai morsi della fame. Allo stesso tempo, la giovane Uzum rivelerà a Gulte di sentire la mancanza di suo papà e anche della sua mamma, perché non ci sono. Intanto, alla villa si celebrerà il compleanno del piccolo Adan, e anche Umit interverrà improvvisamente a questo evento, con grande disappunto di Demir. Demir, pur essendo molto nervoso per la presenza dell'amante, farà un regalo inaspettato al figlio, dargli il nome del suo vero padre, Ilmaz Akkaya. Di fronte a questo gesto d'amore profondo, Zulela rimarrà letteralmente sconvolta e si renderà conto di quanto sia grande l'amore che li lega. Voi lasciate un like se la SOP sta rispecchiando le vostre aspettative e condividete la vostra opinione nei commenti qui sotto. Volete più romanticismo o siete soddisfatti della trama attuale. Vi aspettiamo nel nostro mondo di emozioni.